Bene Assessore, in conclusione si avvicina il Natale, divertiamoci se possibile con le poche risorse, anche se ne approfitto per dire, ma pare che ci sia stato un errore da parte della Corte dei Conti sulla situazione economica di questo Paese, è possibile? Sì, ci sono stati degli errori da parte della Corte dei Conti di valutazione, in sostanza nel controllo che la Corte dei Conti ha effettuato ha notato delle criticità, ma questo non significa che le criticità vengono poi sentenziate immediatamente, quella comunicazione che è arrivata da parte della Corte dei Conti che è uscita durante il Consiglio Comunale non ha fatto altro che far presente al Comune che esistono delle criticità, cioè secondo loro i calcoli sono errati, quindi comincia un contraddittorio nel dire non guarda i calcoli sono fatti in questo modo perché purtroppo c'era un problema delle spese del personale e tengo a precisare che questo riguarda questo controllo l'anno 2010, che non ha nulla a che vedere così come la confusione che hanno voluto creare in Consiglio Comunale, non c'entra nulla con ciò che noi abbiamo presentato oggi, quell'anno, quell'esercizio finanziario si apre e si chiude al 31 dicembre e poi ne subentra un altro, quindi sono dei momenti fiscalmente parlando diversi. Pertanto di che cosa stiamo parlando? Di un periodo che è controllato, giustamente deve essere così. Già il Segretario Comunale ha presentato tutta la documentazione dicendo che gli errori erano scaturiti da doppi calcoli, cioè calcoli effettuati due volte e inseriti, quindi si sforava un parametro, quindi si aumentava, è come se noi avessimo speso un mare di soldi per il personale dipendente, in realtà era stata conteggiata l'imposta IRAP due volte, per cui conteggiando due volte ce ne andavamo a livelli superiori. Quindi fermo restando che abbiamo portato le nostre deduzioni alla Corte dei Conti, siamo in attesa di avere poi un risultato. Quindi siamo nei parametri e anche il Prefetto comunque ha dato modo di verificare, insomma, non il Prefetto in sé per sé, ma il personale all'interno della Prefettura, che come noi ci sono tante altre situazioni, che comunque la Corte dei Conti ovviamente deve fare dei riscontri ed è doveroso e che da parte nostra è altrettanto doveroso andare a fare i nostri riscontri laddove possono essere corretti, è chiaro. Quindi sulla situazione del dissesto finanziario sul Comune di Pachino il dado non è stato tratto, anzi è tutto ancora da vedere. In conclusione Assessore Natale si avvicina, qualche novità per rallegrare la nostra cittadina e i suoi residenti? Ebbene, noi quest'anno vogliamo, almeno questo è l'intendimento dell'amministrazione, quindi anche dell'assessore Spataro, cercare di risparmiare perché in barba chi non percepisce lo stipendio sicuramente questo non sarà il nostro intendimento. Però è chiaro che faremo sentire il Natale per il giusto festeggiamento che è, cioè una festività innanzitutto religiosa e forse questa crisi potrà anche farci comprendere qual è il vero significato del Natale. È vero che molti giustamente avrebbero altre aspettative, però è anche vero che a volte questo genere di momenti possono farci capire che esistono tante cose molto più semplici che possono farci stare bene. Non è il regalo in più sotto l'albero che ci può aiutare. Spesso anche la solidarietà, un minimo di rapporto in più, di stare insieme con gli altri forse ci renderà più felici sicuramente. Quindi ritengo e voglio precisare, adesso magari possiamo un po' uscire da quella che è la veste. Quest'anno il mio stupore più grande è che vogliono organizzare a Marzamemi, locali di Marzamemi, il Veglione. Anche questa volta devo dire, e mi hanno stupito perché ancora una volta ci rendiamo conto che il Comune non sta spendendo neanche un soldo, dà la propria collaborazione, il proprio patroginio a questi giovani imprenditori di Marzamemi, a cui io faccio i miei complimenti perché sono coraggiosi. Hanno avuto un'estate di crisi perché purtroppo la crisi incombe un po' dappertutto e nonostante tutto dobbiamo dire che abbiamo mantenuto lo stesso trend dell'anno scorso. Quindi già il fatto che non ci sia stato un calo è fondamentale. E ancora una volta vogliono investire e vogliono far presente che a Marzamemi quest'anno esisterà il Veglione, ci saranno vari locali che organizzeranno i cenoni e quindi si potrà ballare nei locali della balata di Marzamemi. Quindi ancora una volta avranno la nostra collaborazione per quanto concerne chiaramente la viabilità, i parcheggi perché dovremmo sicuramente organizzare un po' il tutto. Però è anche vero che saranno dei giorni di pieno movimento perché magari la gente verrà per un fine settimana, non andrà via per non toccare la macchina quindi alloggerà qui. È un movimento che a mio avviso loro hanno capito e gli rende onore e devo dire veramente che mi fa molto piacere. E quindi questo significa dal canto mio che abbiamo saputo seminare in questi anni, che gli abbiamo dato i giusti strumenti per poter sicuramente camminare da soli. E questo è fondamentale, vuol dire che abbiamo saputo trasmettere qualcosa in questi anni che li ha spronati e li ha fatti veramente crescere da questo punto di vista perché ogni qualvolta al di là dei quattro giorni di Marzamemi, del periodo estivo, non si è mai organizzato nulla. E invece oggi dobbiamo dire che se riuscirà perché a quanto pare stanno organizzando qualcosa di veramente simpatico e soprattutto per gente adulta, che ho capito bene che sarà addirittura con una radio famosa. Quindi ancora una volta grazie a loro e grazie alla nostra collaborazione, Marzamemi sarà nuovamente spunto di promozione e quindi di visitatori. Anche d'inverno aggiungo. Ovviamente Pachino Camminoso sarà presente in queste serate natalizie. Un'ultima domanda perché su Facebook veramente ci sono tanti che ci chiedono questa... in Piazza Teremanuele ci saranno quest'anno gli stand oppure no? Sì, l'assessore pare domani ci ufficializzerà il programma e sarà mio impegno chiedere all'assessore, allo spettacolo, di pubblicizzare, di ufficializzare il programma attraverso magari Pachino Cam News, sia della nostra voce ufficiale, quindi di portare magari a... anche perché lo chiedono. Quindi molta gente di fuori chiede di venire a Pachino. Anche questo è positivo. Io ripeto, saranno poche probabilmente le cose fatte anche in piccolo, però saranno fatte veramente con il calore e sentite e soprattutto con la collaborazione di tutti perché tutti stiamo collaborando affinché questi eventi natalizi possano essere con un minimo di risparmio perché debbono essere fatti veramente oculatamente e saranno fatti veramente per i nostri cittadini. Bene, io ringrazio l'assessore Patrizia Tossani per averci fatto un escurso su quello che accade come sempre nella nostra città di Pachino. A nome mio, a nome della titolare Santoro e di Pachino Cam News, le porco i miei auguri per le festività natalizie e le rinnovo l'appuntamento al prossimo incontro. E approfitto a questo punto per fare gli auguri di buone feste e di un felice anno nuovo e sperando veramente che il prossimo anno possa portarci qualche cambiamento in più e di essere soprattutto fiduciosi di non guardare mai con aria di invidia perché è un brutto sentimento ma guardare sempre con speranza a chi cerca di fare qualcosa per il bene comune. Grazie. Da Ivan Zortini è tutto, grazie per essere stati con noi, arrivederci alla prossima.